I diffusori GRF Memory sono stati realizzati per omaggiare la memoria del fondatore di Tannoy, Guy R. Fontaine. Riproducono senza sforzo qualsiasi tipo di musica, in modo estremamente coinvolgente e in modo molto piacevole. Usano il driver 3839 M da 15 pollici, ognuno recante la firma di Guy R. Fontaine, scritta presumibilmente con una stilografica ad inchiostro dorato. Creano musica di dimensioni realistiche e suonano molto bene qualsiasi tipo di musica. Sono molto sensibili e possono aiutare ad identificare facilmente i problemi dei componenti del sistema. Predilicono quindi sistemi neutri ed equilibrati. Offrono tutti i vantaggi del caricamento a tromba con una eccellente risposta alle basse frequenze che arrivano a 29 Hz a più o meno 3 dB. C'è un doppio controllo del tweeter. Ha 5 posizioni sia per il roll-off che per la variazione di energia. I magistrali sono le performance ai transienti, senza soffrire dei difetti dell'irradiazione tipica delle trombe convenzionali. L'efficienza complessiva del sistema è elevata, con un risultato che possono essere sufficienti persino 3 Watt anche in sale di una certa dimensione. Le griglie in tessuto sono ammovibili e dotate di serratura. Il collegamento è B-Wiring. I diffusori sono stati progettati anche per poter essere accostati alla parete. Sono in condizioni perfette, senza il minimo segno.